Un'operazione della squadra mobile ha consentito con tre arresti, un quarto in corso d'opera, di stroncare un piccolo gruppo di spacciatori ma molto organizzato che gestiva il mercato cittadino di eroina. Ci racconta tutto il dirigente della squadra mobile, dottor Sergio Leo. Le nostre indagini, come ho spiegato prima, sono nate da un decesso verosimilmente però per dose di sostanze stupefacenti. Abbiamo cercato di ricostruire insomma quali siano state le cause di quel decesso e successivamente anche grazie all'ausilio dei strumenti diciamo di natura tecnica, quali le intercettazioni telefoniche, siamo riusciti a ricostruire un giro abbastanza imponente di sostanza stupefacente del tipo di eroina che condizionava in maniera abbastanza pesante il territorio di Arezzo. Secondo la ricostruzione della polizia il capo era un uomo di origine nigeriana che della sua abitazione con il telefono gestiva l'attività delle cessioni. Dalle telefonate è emerso che i clienti concordavano la dose da comprare. Poi lui decideva quando e come far consegnare la droga dai suoi due collaboratori in un'organizzazione definita dalla polizia molto attenta e professionale. Per chi si comportava bene c'era anche un piccolo dono. Preciso in questa sede che comunque la concessione del regalino era assolutamente subordinata alla preventiva approvazione del capo cioè sostanzialmente chi andava a cedere alla sostanza stupefacente magari richiamava il capo e chiedeva posso fare il regalino in questa occasione e insomma questo è il quadro che è emerso. Le ordinanze di custodia cautelare riguardano tre persone tra i 25 e i 30 anni tutti di origine nigeriana. Un quarto arresto è stato effettuato nell'ambito dello spaccio sempre dalla squadra mobile. La zona ad azione era quella di Saione. Oltre 100 cessioni al giorno con svariate migliaia di euro di ricavato. Le indagini sono partite dalla morte di un uomo al pronto soccorso per sospetta overdose. In procura è stato aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato ma su questo punto il riservo è ancora totale.